ciao gente benvenuta alla musica di reazione oggi vi lasciamo in italia per ascoltare a angelo semerano ha partecipato alla voce dell'italia del 2018 ascoltiamo la tua interpretazione della canzone di adage accoltiamo non so dov'è guardarti non so com'è cercarti ma sento una voce non so com'è non so com'è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.